Ora faremo una pia di shepherd. Per una pia di shepherd necessitiamo 400 grammi di mince e di carne, 400 grammi di potato, un muscolo, due carote, una piaccia, l'olio, l'olio e il salto. Iniziamo a frire l'olio di choppita. Iniziamo a frire l'olio. Poi iniziamo a frire l'olio in piccola piccola. Una volta che l'olio inizia a frire, potete vedere da l'olio, possiamo aggiungere l'olio di choppita. Iniziamo a frire l'olio e iniziamo a frire l'olio. Potete farlo in piccola piccola. Ora che l'olio, l'olio e l'olio iniziamo a frire l'olio, e iniziamo a frire l'olio. Potete farlo in piccola piccola, per farlo, per farlo, e farlo, come faccio. E aggiungiamo in acqua di acqua. Come si può vedere, iniziamo a cambiare la colorazione, e mettiamo in mince del mince, fino a che tutto il mince del mince del mince. e poi il mince del mince del mince del mince del mince del mince. Per quanto riguarda il mince del mince del mince del mince del mince del mince, come puoi vedere, io mi piace aggiungere l'olio di vino, per di più di più di più. Lo �etera E ora生pi il mince del mince del mince del mince del mince del mince, Ora è ora علي di aggiungere con il여� fertilizzazione qua, illazo come voi voglio. Potete aggiungere alcune spic Kes pissed, come il marco nero. Come errors, ? Mizziamo tutti insieme e lo cuoveremo così che lentamente, lentamente si cuocerano meglio. E lascio cuocere tra 15 minuti e 30 minuti. Una volta che le potezioni si cuocano, facciamo le potezioni, aggiungiamo un po' di butter e un po' di double creme. Come vedete il mincemeat è pronto. Ora mettiamo il mincemeat in un piatto di oven. Spendiamo evenly all over il piatto. Iniziamo a topare con il mash. Spendiamo evenly il mash porretto, a topare la carne. Poi mettiamo in un oven per 20 minuti. Poi mettiamo in un po' di 180-200 gradi. Dopo 20 minuti il piatto di potezioni è pronto. Come potete vedere il mash si è brano. Spendiamo il tuo cuore. Spendiamoska. Spendiamo… Spendiamo... Grazie a tutti